Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi faremo una cosa nuovissima Noi allora anche io devi fare Davvero? Stai curioso? Sì, sì, sono curioso Mai vista prima perché è una cosa che... Allora, io ho sempre voluto farla questa cosa Adesso capirete tutto Però non sapevo come, non ho mai avuto l'opportunità E fatto sta che mi contatta questo brand che si chiama MyHeritageDNA Adesso comunque vi farò vedere tutto quanto, vi spiego tutto meglio E loro praticamente tramite un test del DNA Che si può fare da soli a casa passando, se no, tipo un tampone che si passa all'interno della guancia Loro ti dicono da dove provieni Cioè i tuoi antenati, bravo I tuoi antenati, grazie mio fedele assistente Da dove venivano i tuoi antenati E quindi ti dice praticamente da che parte del mondo vieni O ti fa scoprire parenti che non conoscevi Cioè secondo me è una figata, è una figata Io ho sempre chiesto ai miei genitori di farmi un albero genealogico eccetera Non me l'hanno mai fatto, quindi grazie a MyHeritageDNA Io e Tomas potremo scoprire Abbiamo due kit perché ovviamente ho voluto chiedere anche a Tomas di farlo Non so perché, l'ho proposto al brand Io sono gasato Sì, sei gasato? Sì, sì Secondo te, da dove vengono le tue origini? Ah, per favore da dove viene questo apparecchio? Non è un apparecchio! Con questo programma Questo programma? E cosa scopriremo di te? Secondo me è quello che già so, origini, cioè austriache Ma sì, secondo me Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sto bene Boh, mia nonna so che è per metà inglese Ma non... A parte questo Boh, non lo so, non lo so Non vedevo l'ora di farla questa cosa Solo che sono super emozionata perché non so Non so come si fa Ma so che è super semplice Apriamo Prima di spedire il campione Bisogna andare sul sito Ad attivare il DNA kit Ci siamo Attiva il tuo corredo DNA MyHeritage Quindi accediamo No, dobbiamo registrarci Qua adesso vado ad inserire tutti i miei dati Ok, benvenuta Nicola Attiva il tuo corredo per l'analisi del DNA Inserisci il codice di attivazione C'è l'ho qua MHGA Ok, per l'analisi del DNA Di quale persona sarà utilizzato questo corredo? Miei Visualizza il mio vero nome Ho letto d'accetto Accetto Attiva Ok, fatto È stato semplicissimo Ci ho messo due secondi Il corredo DNA Questo è il mio codice È stato correttamente attivato Adesso non ci resta che seguire la procedura E fare questo tampone E fare questa prova Togli uno dei tamponi boccali Dal suo involucro protettivo E utilizza la punta del tampone strofinando la parte interna di una delle tue guance per 30-60 secondi Che tra l'altro abbiamo scoperto Troverso che hai mangiato un pacchetto di Fonzis 10 minuti fa Sì, sì ma un pacchettino piccolo Ah beh, allora Nel suo involucro Quindi se Chissà che risultati avrai tu Cioè non correi più Vabbè E la Fonzis Non si può dire di no a Fonzis Pratico protettivo Utilizza la punta del tampone strofinando la parte interna di una delle tue guance per 30-60 secondi Ok Tu conti 30-60 secondi? Sì Ok 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 Questo è quanto C'è anche un po' di rossetto Farà piacere Apri una provetta E inseriscivi il tampone Con la punta verso il basso Quando il tampone tocca il fondo della provetta Spezza il tampone contro il bordo interno della provetta All'altezza della linea nera Lasciando la punta del tampone nel liquido della provetta Come la spezza Oh, ok Fatto ragazzi Fatto Fatto L'ho spezzato il tampone all'interno della provetta Chiudi bene il tappo della provetta Mio Dio mi sto sentendo molto Sì e sai Sai quelli della scientifica Che fanno Ok, quindi Questa busta Era tutto già all'interno Quindi basta mettere Mannaggia Ok Due provette Mannaggia Beh Mi vuoi prendere in giro Così Ok, fatto Non ho mai sentito nessuno qua a Trieste dire così Cosa vuoi dire? Non ho mai sentito nessuno Che non sono di Trieste Vedremo il risultato Riponi E aziona la chiusura al cursore Ok, chiusa Chiudi la lampo Chiudi la lampo? Au Ora riponi l'astuccio nella busta pre-indirizzata Tu non dici così Smettila Non dici così mai? Sempre Chiudi la lampo Chiudi la lampo Oh, sennò proprio Trieste Lo serano il lampo Scusatemi ragazzi Scusatemi Purtroppo Una volta che azioni Tomas Accendi la videocamera Non la smette più Adesso abbiamo Riponi l'astuccio nella busta pre-indirizzata Inclusa E sigilla la busta Sei serissimo adesso Proprio nel momento Cataclino Ta-da I tuoi risultati saranno pronti In quattro settimane Dal momento in cui Il nostro laboratorio per il DNA Riceverà il tuo campione Ok, quindi quattro settimane Ti invieremo quindi una mail Per invitarti a guardare I tuoi risultati online Oh mio Dio Oh mio Dio Super super facile Super 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 veloce Adesso faremo la stessa cosa con te Non pensare che ti sei salvato Visto che mi prendevi in giro Tutto il tempo Adesso lo faremo a te Faccio io o fai tu? Fai tu Faccio io, ok Allora abbiamo La busta È più comoda Primo che sono tipo Dei cotton fioc giganti In realtà Sette secondi Eeeh Ti stai già addormentando Ecco Se lo sapevo che si addormentava Secondo me saranno Sai dove Svellezio Della cronelaglia Visto che c'hai sempre caldo Tra un po' si addormenta Si è già addormentato ragazzi Beh vedete come è semplice Ti addormenti mentre lo fai Ok ci siamo Dai 59 Un minuto Ok Ci siamo Prima provetta Di pupetto Tomas Ci siamo Prima provetta Chiusa bene Chiusa benissimo Seconda Seconda Secondo Sei pronto Sì Anche se non eri pronto Te lo toccava comunque Deber 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 arriva sempre Si struscia sulla videocamera E spacca tutto La testa eletica Sì E' un po' come Nel dentista Sì beh allora Diciamo che i molari Sono a posto Premolari Diciamo gli incisivi Forse un po' così Usi il filo Vabbè siamo ancora No Mannaggia Eh russi Addirittura Adesso Vabbè che ti addormenti Addirittura lo sale Mi sembra un po' esagerato 59 E 60 Ok Io vedo qua Un pezzo di fonzi Ma farò finta Di non averlo Non vedi qua Non lo faremo vedere In videocamera Per guarda Non ho parole Non ho parole Ma io non capisco Cosa serve questa cosa Non lo so Però loro lo sapranno Non facciamoci troppe domande E In se beh Io ci ho lasciato Un pezzetto di rossetto Un pezzetto di fonzi Sicuramente sapranno Distinguere le nostre promette Dalle altre Ok Ci siamo Chiudere Busta Ok Ci siamo Ci siamo E' fatta E' fatta anche tu Oh mio dio Quindi ragazzi Questo è quanto Noi adesso spediremo Le nostre My heritage DNA I nostri test Aspetteremo Quattro settimane Da quando ricevono Queste buste Nei laboratori E dopodichè Avremo i nostri risultati Ma voi in questo video Li vedrete subito Tra poco i risultati Per noi sarà passato un mese Oddio Aiuto Ok Ciao A dopo Ciao ciao Ok Sono passati Non so Un paio di settimane Due o tre settimane Da quando abbiamo spedito Io mi sono tagliato i capelli Nel frattempo Si è vero Tomas ha anche cambiato look Nel frattempo E non solo Mi ha tagliato la Nicola Fategli complimenti Che secondo me Gli sta tanto bene Questo look A parte questo E il cambiamento Di look di Tomas Che se fosse per Tomas Parleremo tutto il video Solo il suo cambiamento Io invece Tu ridi perché è vero Io invece vorrei Visto che sono super curiosa Andare a vedere i risultati Ragazzi Ci sono arrivati i risultati Vi e-mail ci hanno detto Che sono arrivati E io Ho questa e-mail là E non vedo l'ora di aprirla Tu non sei curioso? Si Non frega niente No Ma Vuoi sapere Vuoi sapere cosa si dicono Allora guardiamo prima i tuoi E dopo guardiamo i miei Oddio Allora Balcanica 51% 26,2% Dell'Europa orientale Si si Italiana 13,2% Buon che viviamo in Italia Si vabbè Scandinavia Scandinavia Lo sapevo io 7,5% Io lo sapevo Perché Tomas Dovete capire Noi abbiamo in casa nostra L'aria condizionata Accesa Notte e giorno Puntata a 22 gradi E per lui C'è sempre caldana Sempre caldo Io non ce la faccio Io sto morendo Un giorno Mi ha guardato Mi ha detto Seriamente Io morirò di caldo Ma era serio Io ancora rindo Quando ci penso Ma cosa vuol dire Che è Scandinavo Sono Scandinavo Che hai una parte Del tuo DNA E viene dalla Scandinavia Quindi Finlandia Norvegia Svezia Nel senso che Ci sono delle gente Che sono i miei parenti Si si Il tuo DNA Arriva anche da là Vedi che hai Quelle tue origini Scandinave Ti fanno avere sempre caldo Infatti io vorrei stare in Svezia Ah ecco In Svezia proprio Si Però è figo in estate C'è sempre il sole E inglese 2,1% Guarda Quindi abbiamo scoperto Che Tomas È per il 51% Dei Balcani Quindi si sa Sloveno Dell'Europa Peccato che dicono Solo dei Balcani Però non dicono Proprio le nazioni Sì sì Solo peraltro Solo Scandinava 7,5% Io lo sapevo Nell'intro di questo video Se ti ricordi Noi settimane fa Quando abbiamo fatto il test Io ho detto Tu sicuramente qualcosa Scandinavo Svedese Norveggiano Io lo sapevo E guarda che 7,5% Non è nemmeno poco Cioè 7,5% Tipo praticamente Tipo praticamente La tua mano È Scandinava 7% Cosa ti sembra Di questi risultati Io sono contento Mi piace Sì E inglese 2,1% Tutto inglese Che roba È probabilmente Qualche tuo Bis 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 nonno Era inglese Per forza Ma che figata No vabbè Secondo me Questo servizio È una figata Ma adesso Voglio vedere i miei Perché sono troppo curiosa Non sto più nella pelle Non ce la faccio più Devo assolutamente Andare a vedere Anche i miei Vediamo Che secondo me Ripeto Secondo me Saranno molto simili I nostri Perché insomma Vediamo Vediamo Ok Ho aperto l'email Risultati DNA Aiuto Aiuto Ho paura Non mi voglio guardare Aiuto Ok Panoramica È differenza What? Differenza 29,6% Scandinava È più di me Santo cielo Allora 33,2% Balcanica È slovena E c'è poco da fare 33,2% Balcanica 29,6% Scandinava Cioè io sono tipo Non so Svedese Finlandese Ma che cavolo Greca 17,5% Ma ti rendi conto Greca Baltica 12,5% Guarda 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 Questo dopo Italiana 5,4% Solo Cioè scusa 29,6% Scandinava Ma io non sapevo No vabbè Mia nonna è metà inglese Però è inglese Non è scandinava Beh la sorella di mia nonna È data a vivere in Svezia Ma non voglio dire Si è trapiantata Ma come è possibile Medio orientale 1,8% Cioè quindi sono tipo Un po' iraniana Un po' Ma come me non sembro Ma come è possibile Dell'Europa settentrionale Occidentale Zero Europa orientale Zero Cioè io ti giuro Io sono allibita Ma è stramissimo No vi giuro Io sono Cioè Non so che cosa pensare No vabbè Mi devo riprendere Da queste cose Perché poi Dell'Europa orientale Europa settentrionale Occidentale Zero Cioè quindi io non Cioè sono trapiantata Qua praticamente Cioè ti è piaciuto Di più il mio Il mio Il mio Guarda che qua Teoricamente No perché A me piace essere Scandino Non ci sono mai stata Però qua vuol dire Che io dovrei essere Più calorosa di te Da oggi comincio io Che caldana Io vorrò di caldo È vero? Ma non ci fosse un creme Questo è quanto Per il nostro video Noi probabilmente Per tutta la giornata Continueremo a parlare Di questi risultati Però questo è quanto Per noi È stata una figata Io sono super 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 Contenta Che da adesso in poi Mi vanterò di essere Scandinava Di dove? Però Svedese Svedese Sì perché ci piace Ci piace Io vi lascerò comunque Il link di questo servizio Che si chiama MyHeritageDNA Qui sotto Nel box informazioni Se volete farlo anche voi Avete tutto qui sotto E niente Questo è quanto Da me e Tomas Che è sempre molto convinto Tipo Che Balkans Stame bene Stame bene Statemi bene Io faccio la traduzione Lui parla in triestino Vai parla in triestino Faccio la traduzione No lo so Lo ho detto solo Stame bene Ah ok Ho detto solo Stame bene Va bene Quindi vi mandiamo un bacio Gigantissimo Ciao E alla prossima Ciao A Trieste Ciao A Trieste Ciao Vi aspettiamo Tutti a casa nostra Ciao